ho scoperto un nuovo trend quale visto le giornate visto oggi tutti i santi e domani commemorazione dei defunti quale vuoi essere questo nuovo trend se i video al cimitero quindi se domani io cimitero sicuramente seguirò il nuovo trend scelto ora facendoci serie e riflettendo perché perché il video al cimitero dei video stupendi con delle frasi stupende con delle musiche in sottofondo stupende ma vecchio cimitero ricordi anche strazianti quindi ci sta il video ricordo magari con una bella foto con una bella frase con un bel ricordo ma davanti alla lapide non giudicando nessuno ovviamente perché ognuno poi alla propria sensibilità certo però non vi sembra un po eccessivo perché secondo me voi direte anche tu nunzio fai tanti video fai vedere tante cose scelto ma io non farò mai vedere nel cimitero quindi nei miei parenti morti né quando sono in bagno e né quando sono in camera da letto perché secondo me le telecamere i telefonini non devono entrare né in bagno né in camera da letto e manco cimitero pensiero mio che volevo far arrivare a voi voi cosa ne pensate secondo voi è giusto secondo voi vi piace questo genere di intrattenimento scelto va bene riflettiamo su questa cosa fatemelo sapere ma io vi do appuntamento non riflettete tanto perché magari approfondiamo l'argomento tra poco e live ti toc alle ore 22 a tra poco set